Il sostegno alle imprese che più sono esposte agli effetti del coronavirus è tra le priorità del nuovo presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, che si è insediato oggi. Maura Fassio lo ha incontrato. Il primo pensiero è il senso di responsabilità per la situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Appena insediato a Palazzo Birago, Dario Gallina non ha atteso l'elezione della nuova giunta il 18 marzo per concordare con le categorie economiche rappresentate nel Consiglio una strategia che affronti lo tsunami di questi giorni. Abbiamo deciso di istituire una cabina di regia immediata, come abbiamo fatto già per le infrastrutture, per dare dei segnali di normalità, di sicurezza e di fiducia soprattutto a tutta la popolazione e agli operatori del commercio e agli operatori di impresa in generale. Vogliamo incontrare le istituzioni al più presto e anche altre associazioni che riguardano per esempio il tema del credito. C'è un momento di difficoltà, le aziende hanno bisogno di elasticità per esempio sul fronte del credito per superare questo momento di difficoltà. Poi con le istituzioni capire bene quelle che sono le linee guida che dobbiamo portare avanti e anche i limiti e comunque quello che ci si aspetta nei prossimi giorni. Obiettivo uscire dalla recente emergenza Covid-19 per aggredire subito la pregressa crisi dell'area torinese. Ci sono dei progetti già attivi come il progetto della Manufacturing Technology Center o dell'area di Corso Marche per quanto riguarda l'industria, ma lavoreremo anche su dei progetti concreti per quanto riguarda l'attività turistica e il commercio per esempio. Ci sono tanti spazi su cui possiamo lavorare, lo faremo con una squadra nuova molto coesa e questo ci permetterà di guardare alla città come un progetto unico, basato su tanti pilastri che possono sostenere il futuro di Torino.